Il Movimento Etica per il Buon Governo attacca il consigliere Pino Bovi, che venne eletto nella lista con Cecilia dopo le estenazioni rilasciate su un quotidiano. Nell'intervista il consigliere Bovi boccia l'attuale amministrazione salvando solo il risannamento del bilancio. Non si schiererà più con la francese e pensa anche ad una possibile sua disponibilità come candidato a sindaco. Il Movimento Etica scrive nella nota Tempo fa, questa grande famiglia etica per il buon governo ebbe dubbi su una mara decisione. Speller o meno dal Movimento un suo rappresentante, il consigliere Pino Bovi. Oggi, tolto ogni imbarazzo o fugato ogni dubbio, lette le ultime esternazioni, questo Movimento non ha più perplessità. Non possiamo offrire la spalla a chi, è chiaro oramai, non condivide alle nostre scelte le indicazioni approvate dal Movimento, prendendo le distanze e discostandosi dagli orientamenti posti a base del Movimento. Poi viene rimarcato nel comunicato In modo netto e forte prendiamo le distanze dalle posizioni politiche e dai ritriati comportamenti del consigliere Bovi, ritenendo che gli stessi siano incompatibili con la nostra linea politica.